Chiamavano servizio perchè erano curiosi, in realtà non si aspettavano d'arriva così lontano Soltanto che poi ha beccato la medica e la prof Si, però la faccia non tanto sul portrait Purtroppo no Se l'anima è fatta meglio Vabbè non me l'aspettavo di fare Flawless sinceramente Infatti quando stai per perdere alla fine dici almeno non ti faccio fare il perfetto Aia Aia Sono diventato bravo eh Ma è tutta la mattina che gioco a questo mattina, che gioco con Jax Dopo cambio poi con questo Questa adesso la cambio E' stronza eh però, sono diventato cattivo Eh Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti